Le parole fanno più male delle botte. Sono risuonate chiare e forti ieri mattina a Teatro Comunale Maria Caniglia. Le parole di Carolina Picchio, la ragazza 14enne di Novara, che nel gennaio 2013, a causa delle vestazioni subite rete dai suoi compagni, si è tolta la vita. Sono risuonate forti e chiare nel corso dell'incontro organizzato dall'Istituto Ristruzione Superiore Ovidio, aperto anche agli studenti delle scuole medie della città, generazione connessa contro il bullismo, il cyberbullismo. Ospite dell'incontro è stato il dottor Paolo Picchio, papà di Carolina, che dal momento della tragica scomparsa della figlia combatte la sua battaglia, recandosi nelle scuole per portare la sua testimonianza al fine di educare e sensibilizzare i ragazzi sui rischi della rete, dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Una battaglia dalla quale nel 2017 è nata anche la legge italiana contro tali fenomeni, la prima in Europa. All'incontro partecipato anche il dottor Diego Buratta, formatore impatto esterno ed educazione digitale, L'incontro ha seguito quello che si è tenuto l'altro giorno nella lavagna del liceo artistico Mazzara, rivolto a genitori e studenti. La due giorni si inserisce nell'ambito del progetto Legalità Legalmente e organizzato in collaborazione con l'Agenzia di Stampa di Reggiovani e con la Fondazione Carolina Hollus. Bisogna fare educazione soprattutto sui genitori per fornire un uso consapevole con certe regole perché certe regole sono fondamentali come le regole del vivere comune così del operare comune in rete per cui i ragazzi devono essere formati, formati loro, formati i genitori, formati gli insegnanti. Sensibilizzare i ragazzi anche dell'età nostra ma anche più piccoli a questa prevenzione è molto importante secondo me perché è una cosa rilevante. Anche perché poi si creano degli eventi come quello a cui stiamo assistendo ossia eventi in cui se ne parla con magari interventi di qualche episodio che si è verificato. Oggi abbiamo voluto parlare ancora una volta del problema del cyberbullismo perché tutto ciò che prima avveniva vis-à-vis o almeno nei rapporti interpersonali oggi avviene in rete quindi i ragazzi devono comunque essere consapevoli di un uso corretto della rete e naturalmente dei social network che li mettono in contatto.